La corsa è stata molto dura, il finale era pieno di curve e sono riuscito a fare un bel terzo posto ma potevo fare meglio grazie alla squadra che mi ha aiutato molto. Le gambe girano molto bene, ieri peccato ho forato gli ultimi due chilometri, se no poteva essere un buon risultato, però gambe bene. Adesso giovedì? Sì, giovedì è una bella tappa, ci riproveremo con la squadra, abbiamo lavorato molto bene.